Questa breve esperienza mi ha dato una visione di un mondo diverso, mi ha fatto capire che ci sono molte persone che hanno una situazione di povertà, di disagio, di ingiustizia, che è una situazione che ti fa riflettere e che quindi mi ha portato a doverli così, a stargli vicino, a doverli aiutare. Tutte domande che alcune sono aumentate, però sono molto positiva e mi auguro di riuscire a stare. A continuare il mio servizio come missionaria, in questa zona lavorerò invece nella periferia della città di Maputo, abbiamo una parrocchia, una grande parrocchia, una zona molto povera e insieme ad altri fratelli continueremo a svolgere il nostro servizio come missionaria nella pastorale. Per cui il desiderio è quello di portare una comunione per poter vivere un pezzetto di cammino nella benevolenza e nella fraternità con questi fratelli e sorelle che vivono in Angola. La mia idea è che il missionario è un anello di congiunzione fra questi due mondi, il nostro che ci invia è quello delle terre, dei paesi, dei villaggi africani con le loro tradizioni, le loro vicende. Dovrò farmi piccolo, dovrò aver bisogno di tutti a partire dalla lingua, dalle cose che non saprò e quindi perderò tutte le mie sicurezze e le mie difese per affidarmi agli altri e cercare di poter dare e ricevere contemporaneamente. Quindi parto così, col desiderio di camminare con le persone che incontrerò, di scoprire un volto di Dio ivoriano, di scoprire le persone, di conoscere, di allargare il cuore, di allargare gli orizzonti, di scoprire un volto di Dio che in questo momento intuisco ma che ancora non ho visto. Beh, innanzitutto con uno spirito di novità e soprattutto con uno spirito rinnovato dopo questa esperienza di formazione qui al CUM. Quindi parto con delle motivazioni che sono diverse da quelle originari, cioè non vado per fare qualcosa, per insegnare loro qualcosa, ma vado soprattutto per ricevere qualcosa. La grande sfida più che far tante cose è lavorare in una prospettiva educativa, cioè che camminino un po' con le loro gambe. La carità credo che sia uguale da tutte le parti, ci vuole molto ascolto e metterei in pratica un po' il motto che mi hanno trasmesso proprio dell'America Latina, quello di vedere, giudicare, agire, cioè vedere con gli occhi di Dio la realtà che ci circonda, illuminato dalla parola di Dio, per poi fare qualche piccolo passo insieme. Sono partita, prima del CUM forse avevo un entusiasmo magari poco, con dei contenuti poco chiari. Adesso dopo il CUM riconosco sinceramente di aver aumentato ancora di più l'entusiasmo e di aver dei contenuti più chiari. Il fatto di vedere che la Chiesa è una realtà missionaria aperta al mondo e concentrata sulla persona umana che deve essere promossa e anche di avere cura dell'altro. Con quale aspettative parto? Di cambiare me e di cercare di essere di aiuto all'altro? So che io umanamente parlando non sono capace di portarlo a termine, quindi mi affido veramente al Signore e alla sua sapienza perché io possa condurre queste persone a trovare veramente quello che vuole il Signore da loro. L'idea della missione è che uno non deve andare per portare quelli che sono i suoi schemi, voglio dire, soprattutto qui il CUM mi ha fatto imparare questo. In Italia io mi occupo di musica, sono musicista e insegno musica nelle scuole e quindi mi piaceva molto l'idea di fare un pezzo di strada con i miei fratelli africani condividendo queste diciamo queste mie capacità e mettendole un po' a servizio. Quello che mi ha spinto a fare questa esperienza è stato il bisogno di cercare qualcosa di un po' più profondo e a livello un po' egoistico, una cosa che volevo fare anche per me, nel senso che già a Bergamo facevo parte di diverse associazioni di volontariato, ma a un certo punto della mia vita questa cosa non mi bastava più e quindi ho sentito il bisogno di vivere un'esperienza lontano anche dalla mia città a contatto con gente e con popoli e tradizioni che non conosco. Ho fatto un percorso spirituale e mi sono resa conto che in realtà era una chiamata e quando ho capito che era una chiamata l'ho in realtà combattuta e ho detto io non la voglio fare questa cosa signore mio perché mi stai a chiamare in Africa. Poi mi sono lasciata andare, mi sono lasciata guidare e da quando ho risposto il famoso ecco mi si ti seguo si è scatenato un mondo di cose bellissime, di amore che mi gira intorno e quindi è solo questa la ragione per cui vado. Una sensibilità missionaria che è nata insieme alla vocazione e che adesso mi porta a non fermarmi ecco quando mi è stato proposto questa possibilità ho accettato con gioia perché appunto ho intercettato anche una sensibilità che è presente. È una ricchezza immagino anche sul lungo periodo anche per la nostra chiesa di Milano e per comunque la nostra chiesa e cultura occidentale che devono aprirsi all'accoglienza, aprirsi all'incontro con queste popolazioni e con queste chiese. L'idea del missionario non è uno che va, fa l'eroe, fa tutto lui e sistema tutto lui, è una specie di Superman ma l'idea di uno che entra dentro una comunità, dentro un lavoro anche di altri e aiuta gli altri a venire fuori per quello che sono. E vai ai miei fratelli, vai ai miei fratelli, per me è una parola che mi ha colpito tanto nel cuore e tutto dove c'è l'umanità sono fratelli del Signore che hanno bisogno di questo servizio. Il Vangelo può dare molto per tutti, innanzitutto per la vita di ognuno di noi ma poi credo che nell'ambito della giustizia ci sia veramente bisogno di Vangelo. È stata una richiesta del Vescovo e per cui ecco all'inizio subito un po' mi ha colto di improvviso, però gradualmente, oltre al sì verbale, c'è stata anche un'adesione sempre più profonda di cuore. Sento come una seconda chiamata nella chiamata, sono contenta di avere risposto, che credo di dare quello che ho e quello che posso essere. Spero che sarà un'esperienza bella, molto bella, mi piacerebbe incontrare gente molto accadente. Sì, mi piace un missionario che sta in ascolto, che ascolta la realtà in cui si trova e che si lascia plasmare da quella realtà per riuscire a vivere il Vangelo in un modo nuovo. Ora mi aspetto di poter vivere un'esperienza, in quanto le persone sono proprio poche che aderiscono alla fede, è come dire, è un riiniziare un'esperienza della fede ecclesiale partendo proprio dalla realtà delle persone, quindi pian piano, e quindi questo potrebbe essere la cosa che più mi stimola, quindi aprire proprio dalla relazione con le persone pian piano, ecco, è come formarsi piccole comunità. Parto con lo Spirito Santo, che è lo Spirito che raccoglie la spiritualità del cristiano, perché è il cristiano e missionario, lo Spirito Francescano, che è quello della Letizia, che è una perfetta Letizia, è quello dell'annuncio ai poveri, nella semplicità, e lo Spirito Angelino, che è quello di sperimentare quanto tutti attendono l'uno dall'altro e quanto la pace e la riconciliazione siano possibili.